Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 5 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Orosco Pariete. Il rapporto di coppia risente di una discreta ambiguità, e sono possibili anche falsità, egoismi, bugie e qualche tradimento. L'incompatibilità dei caratteri potrebbe fare la differenza che porterà a una crisi di coppia molto seria. L'amore è destinato a diradarsi e le coppie a dissolversi. I single, pur avendo buone opportunità, non sapranno sfruttarle e hanno speranno in un mare di indifferenza alle loro problematiche. Se vi sentite in solitudine è solo perché prima del sole c'è sempre un temporale. Oggi è il giorno ideale per cambiare qualcosa della vostra esistenza, anche cambiare semplice mnete look, oppure abitudini, o ancora modi di pensare e giudicare può essere utile per un cammino nuovo. I tempi sono maturi per costruire qualcosa di più concreto. Non rimandate più. State più vicini al parter. Potrebbe avere un gran bisogno di voi. Il vostro partner vi sta trascurando un po'. Fategli presente che la sua assenza comincia a pesarvi. Piano piano riuscirete a organizzare le vostre giornate in modo da rispettare tutti i vostri impegni, non scoraggiatevi se qualcosa non andrà a posto subito, ma cercate di fare sempre il vostro meglio. Amate anche i difetti del vostro partner. Non potete pretendere che sia il ritratto della perfezione. Abbiate comprensione. Oggi potreste avere dei problemi con qualche amicizia o con qualche parente, liberatevi presto dal pensiero che dovete essere sempre voi per primi a fare un passo indietro. Qualche volta uno scatto d'orgoglio pure serve, non fidarti troppo di quello che ti diranno o ti prometteranno le altre persone. Stanchezza o problemi di salute dovuti a stress. Cerca di riposare di più. Curate di più l'intesa con il vostro partner e diffidate da alcuni consigli che oggi vi verranno dati da persone gelose e invidiose. Siete piuttosto focalizzati nelle vostre relazioni in questa giornata poiché avete speso molto tempo con le persone in generale e questo vi ha fruttato molta positività e molta più visibilità che non è da tutti i giorni. Sicuramente vorrete concentrarvi anche nei prossimi giorni su tale aspetto della vostra vita, tuttavia cercate di non trascurare il lavoro o altri campi che richiedono lo stesso impegno e dedizione, altrimenti siete punto e da capo. Un creativo Plutone in Aquario è pronto a fornirvi le intuizioni giuste, anzi, vere e proprie illuminazioni sul modo di procedere quest'oggi, specie se siete nati dal 21 al 25 marzo. Affrontate una questione burocratica che porta noia in famiglia usando tutto il vostro senso pratico e la rapida volontà di risoluzione dei problemi. I rapporti con i conviventi sono oggi all'insegna dell'armonia e del buon umore, in particolare quelli con figli, fratelli e sorelle e, se ci sono, anche con i nipoti. Sempre Plutone, in angolo positivo, vi permette di relazionarvi in maniera spigliata e vi apre all'ascolto attento di quanto l'ambiente familiare vi propone. Tre pianeti in dodicesima casa, la luna malinconica, Nettuno svagato e Saturno che porta in superficie tutti i ricordi del passato. Risultato, umor nero, insicurezza e un senso di vuoto interiore, che solo una cena gogliardica o un pomeriggio di shopping bulimico riesco almeno in parte a placare. Strana, quasi incredibile fragilità in tipi grintosi e volitivi come voi. Rassegnatevi, anche i migliori talvolta sbarellano. Amore ed Eros. Amate la vostra famiglia eppure siete voi stessi a suscitare battibecchi che poi cercate di dribblare con altri discorsi ragionevoli ma male interpretati dagli altri. In effetti la sensibilità oggi lavora a scartamento ridotto e intimidita nelle retrovie si occupa di riflessioni profonde ma non di fatti né personaggi quotidiani. Contemperate amabilmente le esigenze del partner con le vostre, per una vacanza da progettare insieme. La luna vi fornirà tempismo e saggezza per le scelte da compiere e la capacità di economizzare nelle spese. Mercurio, invece, in aspetto in congiunzione sarà l'astro che vi appronterà soluzioni convenienti e a volte geniali, per come e dove muovervi. Lavoro e denaro. Niente da fare per fortuna perché in ogni caso non avreste nessuna voglia di metterci mano, caso mai invece di uscire, incontrare gente e comunicare nel tentativo forse vano di sfogare le vostre intime tensioni e inquietudini. Qualcosa vi si agita dentro precludendovi la serenità necessaria per sbrigare alcune faccende. Shopping azzeccato solo in libreria, per la casa acquistate utensili che si rivelano del tutto inutili. Se avete in mente di migliorare i risultati professionali potrete contare sull'appoggio di Plutone che in una prospettiva di lungo periodo vi stimola a realizzazioni sempre più apprezzate da colleghi e capi. Benessere. Si vede che siete stressati già da come vi nutrite, inizialmente appena sedete a tavola divorate quello che vi capita a tiro con fare affamato, subito dopo vi spunta un'espressione disgustata come se aveste mal di stomaco e probabilmente è davvero così. Se poi pranzate dalla suocera si salvi chi può, ma non è lei che vi avvelena, sono le vostre intime tensioni. Utile una pennichella a fine pasto. Denaro. Il vostro pianeta governatore, il sole, transita in angolo fausto per il vostro segno dal toro, vostro buon vicino sulla ruota dello zodiaco. Quel che vi siete guadagnato e meritato al lavoro sta per arrivarvi, con qualche piccola maggiorazione di interessi. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie. Grazie.